Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha criticato senza sorprese la decisione dell'assemblea parlamentare del Consiglio di Europa ad avviare un processo di controllo della Turchia in materia di rispetto dei diritti umani, di democrazia e di rispetto dello Stato di diritto. Per quello che l'opposizione definisce il sultano, nessun problema, siamo pronti a rivedere i rapporti con l'Europa, ha detto. Dopo gli ultimi sviluppi alcuni vanno facendo discorsi sul fatto che l'Unione Europea bloccherebbe i negoziati per l'adesione della Turchia, ha detto Erdogan. Se c'è un fondo di verità, se questa intenzione è realistica, allora cosa faremo? Ovviamente rivedremo la situazione, ha detto. L'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, dove siedono 17 deputati turchi, ha adottato con 113 voti a favore, 45 contrari, 12 estensioni, una bozza di risoluzione che lancia un meccanismo di controllo sul funzionamento delle istituzioni democratiche in Turchia. Due dei deputati turchi hanno votato in favore della risoluzione. Al centro delle critiche la proroga dello Stato d'emergenza dopo il fallito golpe del 15 luglio e il referendum del 16 aprile che ha allargato i poteri del Capo dello Stato. Il Consiglio d'Europa è pronto a descludere la Turchia dall'organizzazione nel caso in cui il referendum apra la via alla reintroduzione della pena di morte.